Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e io sono Alessandro. Oggi non è un Tessiland Condivision, non è un Tessiland News, non è un Tessiland Come Fare, ma secondo me è un qualcosa ancora di più, perché oggi parliamo della partnership che Tessiland ha creato e realizzato con l'AIL. AIL, Associazione Italiana Contro le Leucemie, Lienfomi e Melomi. Com'è venuta questa idea? Era meglio che non veniva, però queste cose esistono ed è così. E com'è venuta questa idea? Ce lo racconta Alessandro. Che cosa è successo Alessandro? Allora, una mattina mi sono sentito un dolore al fianco, destro, e siamo andati, dopo che sono andata a scuola, siamo andati a fare il prelievo per vedere che cosa era. La sera ero da mezzia e quindi è arrivato mio papà e ha detto che dovevamo andare a Napoli. Perché abbiamo scoperto che c'era qualcosa che non andava. Poi siamo andati all'ospedale di Napoli che si chiama il... Santo Bono. Santo Bono e lì siamo stati ricoverati per un giorno solo. Giusto? E poi ci hanno trasferito al... Pausillipo. Al Pausillipo, che è un ospedale pediatrico appunto per le leucemie e lenfomi. E lì hai fatto un po' questa tua degenza che è durata 17 giorni, se ti ricordi bene. Ti ricordi questa cosa, questi giorni passati all'interno dell'ospedale. Raccontaci questi giorni, com'erano? Questi giorni erano... Il primo era un po' brutto, però dal secondo in poi mi sono... Cioè, era molto bello perché poi la sera si ordinava la pizza di Napoli, che era buonissima. Poi l'AIL ci faceva arrivare i ghiaccioli, che per... Cioè, per alcune persone è una cosa che è normalissima, ma per noi in quell'ospedale era proprio una cosa bella perché noi mangiavamo del cibo non tanto buono. E quindi, con le analisi, poi abbiamo scoperto che era una leucemia mediodecronica, che non è una leucemia come le altre, ma una leucemia che ha una cura. E quindi qui apriamo una piccola parentesi. Le leucemie ce ne sono davvero tantissime. E per fortuna questa tipologia di leucemia da 30 anni, cioè quindi non tantissimo, a questa parte è una leucemia che è curabile. Io ne ho 45, quindi ero ancora... ero più grande di lui 30 anni fa e quindi era... È una cosa molto importante l'AIL perché c'è la ricerca soprattutto di qualsiasi cosa perché riusciamo a trovare poi la cura. E avere una cura vuol dire avere una speranza. Ma oltre a questo, dopo che tu conosci la cura, c'è la speranza, c'è il mantenimento. Che vuol dire, in poche parole, come facciamo noi. Che cosa facciamo noi? Ogni due mesi ritorniamo a Napoli e facciamo prima il tampone e dopo ritorniamo a casa e il giorno dopo facciamo il midollo. Facciamo l'estrazione del midollo che serve per poter vedere. Questo giustamente comporta dei viaggi avanti e indietro. Per noi sono un 150 chilometri ad andare, 150 a tornare, non è chissà quant'è, però molte altre famiglie che vengono addirittura dalla Calabria, dalla Basilicata e da altre regioni hanno bisogno di questi viaggi solidali. E quindi la Tessiland ha deciso di fare proprio questa sorta di partnership con l'AIL e di sostenere questo progetto che si chiama Viaggi Solidali. Che cosa, come funziona questo progetto Alessandro? Raccontacelo. Per il progetto Tessiland per AIL andando nella categoria per te e acquistando i prodotti come tè e tisane, ora vi faccio vedere com'è questo pacchetto di tè e tisane, ricavando dalla vendita di questi prodotti, il ricavo della vendita di questi prodotti andrà all'AIL per i viaggi solidari. Il progetto bravo dei viaggi solidari, perché si sa che comunque sia gli spostamenti, soprattutto adesso con il problema della pandemia, sono molto complicati e difficili, non si può andare in treno, non si può andare in aereo, la maggior parte utilizza l'auto e sono davvero lunghi e lontani questi viaggi, servono appunto per poter, il ricavato serve per poter garantire questi viaggi che servono per monitorare queste leucemie o gli infomi. Quindi spero che sia chiarissimo il progetto viaggi solidari, perché è molto molto importante mantenere sempre sotto controllo la malattia e soprattutto avere sempre la possibilità di dare la possibilità di curarsi. Quindi Alessandro, dopo questo breve video, noi cosa diciamo di sostenere sempre? La fondazione AIL! E quindi noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, siamo tutti solidari. Grazie e ciao!